La prima senza liquidato, il Santo Maso domani chiuderà il girone di andata a Corigliano. I Grifoni per questa trasferta, che diventa fondamentale a causa della precaria classifica, si presenteranno in terra calabra con il DG Annino Cucciniello in attesa di lunedì, giorno dell'annuncio del neotecnico Sergio Lacava, altro erpino doc, allenatore con un passare importante dove ha guidato anche Potenza e Barletta. Nei giorni scorsi è stata trovata l'intesa con Francesco Savarise, Savarise, calciatore reduce dall'esperienza a Lavello, classe 1994. Savarise ha giocato anche a Pomigliano proprio con la cava. Di sicuro un elemento di spessore e di esperienza da inserire in un organico che ha bisogno almeno di altri due elementi d'attacco e di un difensore. La rosa va completata, ma al di là di questo non si può fallire la partita contro Catalano e compagni. Nel frattempo arrivano buone notizie dai tribunali. Lo avevamo già anticipato, ieri è arrivata l'ufficialità. Il ricorso del Marsala è stato rigettato.